In questo numero del Tg Ambiente. L'Unione Europea vuole ripristinare almeno il 20% delle superfici terrestri. Il settore aereo non è sulla strada della sostenibilità. Fideuram accelera sulla sostenibilità. Roma, il termovalorizzatore per una capitale pulita. Il Parlamento Europeo si prepara a votare il testo finale sulla Natural Restoration Law, la legge sul ripristino della natura elaborato dalla Commissione Europea che ha lo scopo di ripristinare entro il 2030 almeno il 20% delle superfici terrestri e acquatiche dell'Unione, con estensione entro il 2050 a tutti gli ecosistemi bisognosi di recupero non solo relativamente alle aree protette ma comprendendo anche i terreni agricoli e le aree urbane. Non si tratta di una direttiva ma di un regolamento e pertanto deve essere applicato in tutti i suoi elementi nell'intera Unione Europea. Entro due anni dal completamento dell'iter legislativo, gli Stati avranno l'obbligo di adottare dei piani nazionali di ripristino da sottoporre al controllo della Commissione inviando rapporti annuali sui progressi e l'attuazione delle misure previste. L'obiettivo generale è quello di contribuire alla ripresa continua a lungo termine e duratura della biodiversità e della resilienza della natura in tutte le zone terrestri e marine dell'Unione mediante il ripristino degli ecosistemi che non porta automaticamente a un aumento delle aree protette ma bensì proteggere la natura e ripristinare quella perduta in termini di biodiversità. Secondo l'ultima valutazione dell'Agenzia Europea dell'Ambiente sullo stato della natura nell'Unione Europea del 2020, l'81% degli habitat protetti, il 39% delle specie di uccelli protetti e il 63% delle altre specie si trovano in un cattivo stato di conservazione. Tra le cause l'agricoltura intensiva e l'uso indiscriminato di pesticidi e fertilizzanti, il consumo di suolo, l'inquinamento, la selvicoltura non sostenibile. Il settore aereo non è sulla strada della sostenibilità. Entro il 2050 anche il settore dell'aviazione dovrà raggiungere la neutralità carbonica ma secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia gli sforzi compiuti finora da governi e aziende per ridurre le emissioni del trasporto aereo non sono in linea con gli obiettivi. Nel 2019 il settore dell'aviazione ha emesso oltre 1000 megatonnellate di anidride carbonica nell'atmosfera. Dopo il breve calo registrato negli anni della pandemia, dal 2022 le emissioni climaalteranti del trasporto aereo sono tornate a crescere. Il settore dell'aviazione nel 2022 infatti è stato responsabile di circa il 2,8% delle emissioni globali di CO2 e nel 2023 ha registrato il più alto numero di persone trasportate, circa 4,7 miliardi e gli esperti concordano sul fatto che questo numero continuerà a salire anche nei prossimi anni. Ma la lotta ai cambiamenti climatici passa necessariamente per una riconversione di tutti i settori dell'economia, aviazione compresa. A differenza di altri settori però, con le tecnologie attuali sembra improbabile che il trasporto aereo possa davvero diventare sostenibile in tempi brevi. Pertanto il futuro dell'aviazione passerà dunque da un mix di tre diverse tecnologie, aerei elettrici, aerei a idrogeno e carburanti sostenibili. Ma c'è anche chi suggerisce un'altra soluzione, ridurre la domanda con l'aumento dei prezzi dei voli o con l'eliminazione delle tratte a breve raggio che possono essere realizzate con i treni. La finanza può svolgere un ruolo fondamentale per promuovere i temi legati alla sostenibilità, ma servono strumenti adeguati, come i green bond, ancora non abbastanza conosciuti dai risparmiatori, ma dal forte impatto sul PIL. Ne ha parlato Simone Chilini, Head of ESG and Strategic Attivism di Fideuram Asset Management SGR. L'anno scorso sono stati emessi 500 miliardi di green bond, complessivamente, e solo a livello di BTP sono stati emessi nel corso degli ultimi tre anni 35 miliardi di euro di BTP green. È interessante cosa ci dice il MEF sul rapporto annuale di allocatazione ed impatto dei BTP green emessi. Di questi 35 miliardi il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha già allocato 8 miliardi di euro e questi 8 miliardi di euro hanno prodotto 200.000 posti di lavoro e 13 miliardi di euro di valore aggiunto, quindi di PIL addizionale. Fideuram ha aderito alla Net Zero Asset Manager Initiative. Secondo Chilini la più sfidante e impattante iniziativa sulla sostenibilità che si declina in quattro target da raggiungere a medio-lungo termine. Il primo è di impegnarsi ad avere al 2050 il 100% di portafogli investiti in aziende che hanno raggiunto la neutralità carbonica, ma abbiamo anche degli obiettivi più vicini. Ad esempio nel 2030 dovremo aver ridotto rispetto al 2019 le emissioni dei nostri portafogli del 50%, dovremo entro il 2025 aver ingaggiato il 70% delle aziende nelle quali investiamo responsabili appunto del 70% delle emissioni finanziate e al 2030 il 90% delle emissioni finanziate dovranno essere ingaggiate perché queste aziende aderiscano a dei piani di decarbonizzazione solidi e trasparenti. L'ultimo impegno è quello di triplicare entro il 2025 gli investimenti in Climate Solution. Noi in particolare ci concentreremo sui Green Bond. Il termovalorizzatore può contribuire a colmare il gap tra Roma e le altre capitali d'Europa sulla gestione dei rifiuti. È quanto emerso dal dibattito Capitale Pulita che si è svolto nell'ambito del ciclo di incontri Roma-Locomotiva d'Italia, organizzato dal quotidiano al tempo. L'unico progetto presentato in fase preliminare è quello di Acea in partnership con Itaci, Suez e Vianini, l'amministratore delegato di Acea Fabrizio Palermo. Credo che la soluzione proposta che è stata presentata anche dal sindaco recentemente rappresenta un progetto all'avanguardia che presenta una soluzione concreta che adesso come sapete è stata messa a gara. Noi siamo fiduciosi e stiamo lavorando a presentare in questo un'offerta e crediamo che questo possa dare un valido contributo a risolvere e a gestire il tema dei rifiuti della Capitale. Una più efficiente gestione del ciclo dei rifiuti è anche un tema di salute pubblica. Luca Richeldi, direttore di pneumologia del Policlinico Gemelli di Roma. La salute dei cittadini, come abbiamo imparato soprattutto negli ultimi anni, è un valore diffuso, essenziale, costituzionale che tutti vogliamo difendere e garantire dai più piccoli ai più anziani. La salute respiratoria in primis, ma la salute in generale. Certo, la gestione dei rifiuti è un punto cruciale insieme ad altri, il traffico e altri tipi di inquinamento che sappiamo e quindi cercare le soluzioni che offrono più vantaggi è assolutamente cruciale da questo punto di vista.